E' di 38 morti e 10 feriti, tra cui due bambini in gravi condizioni. Il bilancio della tragedia a Monteforte Irpino lo conferma il prefetto di Avellino. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla A16 Napolicanosa. Un pullman è precipitato in una scarpata. Tra le vittime anche l'autista. Aperta un'inchiesta. Cordoglio dal mondo politico. Dalla Grecia il premier Letta ha annullato la visita all'acropoli di Atene, commentando. E' un giorno triste. Accertare le responsabilità, chiede il ministro dei trasporti Lupi. Chiarire la dinamica, chiosa il ministro della giustizia. Cancellieri. Non si escludono guasti al mezzo. In corso una serie di perquisizioni a Torino e in Val di Susa nei confronti di attivisti Notav. L'accusa alla base del provvedimento per la prima volta è attentato con finalità terroristiche o di eversione, in riferimento ad episodi di violenza degli ultimi mesi. Ancora sbarchi sulle coste italiane. Un peschereccio con 102 migranti è stato intercettato a largo delle coste calabresi e indirizzato a Crotone. Individuati due presunti scafisti. Nelle ultime ore, centinaia, le persone giunte a Lampedusa, centro di accoglienza al collasso. Nessuna speranza per i 31 dispersi in un naufragio davanti alle coste libiche. Nuova catena di attentati. Stamani a Baghdad. Almeno 34 morti ed oltre 120 feriti per otto autobombe fatte esplodere nella capitale irachena. Nel mirino sembra soprattutto le forze dell'ordine e le rappresentanze sciite nel contesto della guerriglia sunnita contro il governo di Al Maliki. Marina di massa sotto shock. Ieri un 38enne ha sparato all'ex moglie nel bar dove lavorava uccidendola. Poi si è sparato. Prima aveva inseguito e ferito un amico di lei in strada. Attesa per domani la sentenza della Cassazione al processo Mediaset. In appello Berlusconi è stato condannato a quattro anni di reclusione e cinque di interdizione dai pubblici uffici. Possibili anche delle ripercussioni sul governo. arabità pubblici uffici pubblici uffici pubblici uffici